Salone del Mobile 2012, siamo nello stand di Casa Mania, è uno stand in cui mi sento a casa, sono amico da sempre di Elis e Loris che segue i progetti e quest'anno presentiamo un'evoluzione della libreria Bloom, ovvero l'angolo. Non avevamo progettato l'angolo, c'è bisogno anche degli angoli per le librerie e questa è la nostra realizzazione. Quindi è un salone di completamento questo per me, per Casa Mania. Credo che anche questo mio atteggiamento rientri nello spirito dei tempi, più sobrietà, completare i progetti, fare bene, cercare di chiudere le cose e cercare di presentare un prodotto completo in tutta la sua gamma. Ecco, credo molto che questo sia lo spirito dei tempi, cioè ritrovare un senso di riportare il progetto nella sua completezza, senza esagerazioni, senza eccedere nel glamour, senza eccedere nelle chiacchiere inutili. È il mio stile e spererei di portarlo avanti per tanto tempo. Questa libreria si compone in maniera molto semplice, ci sono dei ritti verticali con questo profilo ruotato di 45 gradi che permette l'inserimento di una mensola che regge il piano, che ha degli appositi smussi, in modo che la costruzione della libreria ha una sorta di uno simoro, una semplice complessità, perché ricorda una costruzione di un edificio con questi appunto travi, con questi sostegni a mensola, questi pilastri, perché tutto sommato la libreria è una sorta di edificio senza le facciate e in questo modo la struttura semplice è di facile lettura. Ma aggiungo io che deve essere anche di facile costruzione e di facile realizzazione quando la libreria arriva a casa e il momento difficile arriva quando ha aperto i pacchi e deve essere costruita e montata. Ecco, io cerco sempre di tenere molto in considerazione che si è nell'impossibilità di raccontare in un momento espositivo come la fiera, ma è una cosa che poi il consumatore finale apprezza molto perché il design deve essere anche intelligente, non solo bello.